Grazie a tutti e a tutti i tuoi pericati. Sono molto contento, infatti, sono molto soddisfatto di quello che ho fatto, perché oltretutto in un club così grande come il Palermo è anche difficile, non può emergere, per cui sono contento di aver giocato e credo di aver fatto anche abbastanza meglio. Le impressioni che gli ha dato allo stadio? Ok, credo che gli ha dato allo stadio. Il stadio è in Varunzo, non abbiamo bisogno. Varunzo è tutto il viaggio che ci dà il nostro potpore e il nostro milagro è tutto il grato. Lo stadio è veramente un bellissimo stadio, i tifosi ci hanno sostenuto e ci sostengono e ci danno questa carica che ci serve e sono stati meravigliosi. Lui spera di giocare spesso, spera di avere spazio in questa squadra? Sì, credo che l'ho conosciuto, grazie a tutti i tuoi figli. Io sono andato a tutti i treningi, anche a tutti i tecmi in provincia, e poi si è avvicinato a treningi, se mi vuole dare il pane. Io darò tutto negli allenamenti, prima negli allenamenti e poi nelle gare che mi saranno concesse, e dopo sarà l'allenatore alla fine a decidere se serve o se non serve. Grazie, grazie mille. Grazie.